Controllo elettronico dei profughi per garantire più sicurezza e presidio del territorio. E questa è la proposta che non mancherà di suscitare polemiche del sindaco di Rovigo, Massimo Bergamin. Una decisione che nasce dopo gli ultimi episodi di cronaca, spiega il primo cittadino, da Rimini a Roma a Rovigo, che dimostrano ancora una volta quanto sia disorganizzato il sistema politico burocratico italiano per quanto riguarda la gestione dei clandestini richiedenti asilo. Reputo opportuno, continua Bergamine, che i richiedenti asilo vengano costantemente monitorati in quello che fanno di giorno e di notte e nel contempo rimanga traccia dei loro spostamenti. Non si tratta di limitare la libertà di circolazione e di espressione, ma di operare un controllo maggiore, alla luce di molte notizie. Propongo quindi, spiega ancora il sindaco di Rovigo, che chi è ospitato nei nostri territori venga controllato giorno e notte con strumenti elettronici che consentano alle forze dell'ordine di rintracciarlo in tempo reale e nel caso di problemi di ordine pubblico venga opportunatamente sanzionato e punito con il rimpatrio nel paese di provenienza. I cose, sottolinea Bergamine, dovranno essere inclusi nei budget messi a disposizione per la cosiddetta accoglienza. Con questo, conclude il sindaco, non viene meno la fiducia nelle cooperative che operano seriamente, ma chi ha delle opportunità nel nostro paese deve rispettare le regole senza sé e senza ma. La mia visione va oltre le strumentalizzazioni politiche e si occupa della sicurezza dei cittadini e del rispetto della legalità. Grazie. 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 Grazie.